Ciao a tutti! Ciao! Allora, io sono qua oggi a casa di Cristiana, a Sforza Costa, un paesino in provincia di Macerata e prima di cominciare a raccontare la sua storia vi voglio dire subito questo. Tutte quelle persone che io mi accorgerò che hanno visto il video e non lo hanno condiviso, io le blocco perché se uno non condivide una roba del genere non c'è senso che sia neanche nella mia pagina perché nella mia pagina si cazzeggia, si fa casino, si parla di figa, si parla di tutto ma quando ci sono questi problemi così bisogna assolutamente condividere tutti. Allora, Cristiana, che malattia hai tu? Io ho la sclerosis múltipla. Da quanti anni? Dal 1988, diagnosticata nel 96. Ok, allora Cristiana era una persona che lavorava, aveva la sua attività, Cristiana faceva addirittura piano bar, Cristiana cantava e adesso si ritrova così. Dal 2007, lei si ritrova a non uscire neanche di casa e si ritrova agli arresti domiciliari dentro casa sua. Lei mi ha mandato un messaggio disperato perché il problema è questo. Io adesso ve lo dico qual è il problema di Cristiana. Ve lo dico con le cifre. Allora, Cristiana, fra i 200 euro al mese che percepisce dal comune e i 1390 euro al mese che percepisce per l'accompagno al mese Cristiana prende 1590 euro dalle quali bisogna levare 400 euro d'affitto per questa casa e 1440 euro di assistenza privata per un totale di 1840 euro al mese. Cristiana ogni mese sta sotto di 250 euro perché qualcuno pensa magari che Cristiana non magna che Cristiana non deve fare la spesa Cristiana ha bisogno di un'assistenza un'assistenza H24 che non gli viene concessa. Vi faccio vedere una cosa, se mi puoi seguire. Cristiana prima aveva sete e deve lasciare la bottiglia aperta perché se no non ce la fa ad aprire un semplice tacco. Quando ho suonato il campanello Cristiana mi ha detto fortuna che sei arrivato. Io ho detto perché? Che è successo? Gli era cascato questo cuscino più per terra era lì e non riusciva a raccoglierlo e Cristiana deve avere un punto d'appoggio qui perché se no gli vengono le piaghe da decupito stando sempre ferma. Cristiana non ha una sedia a rotelle adatta non va bene questa la sua postura così non va bene perché? Perché è piccolina questa sedia a rotelle gli sta costringendo le costole e gli sta creando gravi problemi oltre a quelli che ha. Cristiana ha bisogno di una sedia a rotelle adeguata la ASL gliela concede dicono che ci sono i presupposti per averla ma la regione dice no vabbè acquista qua. Cristiana ogni due ore deve andare al bagno perché è un essere umano caca e piscia come tutti non ce può andare a sola deve aspettare che arrivano o amici suoi o persone di buon cuore a dargli una mano. Io prima gli ho detto scherziato perché te lo sai come sono fatto io no? Non ti puoi manco far venire la diarrea mi attacco dei colini non te lo fanno bisogna cacca a comando allora tu lo sai come sono fatto io scusa io rido ma tu devi ridere perché loro ma tanto ascolta ci saranno tante persone qui da di sapere che ci saranno tante persone dal cuore buono la maggior parte che capiranno e ci daranno una mano e poi senti ci sarà i bimbi minchia perché dice ma questo perché non va lo stupido e basta invece che fa io non faccio niente io te l'ho detto prima di lavoro faccio il cabarettista però non posso chiudere gli occhi o mettere gli occhi dentro la sabbia come fanno gli struzzi quando vedono queste ingiustizie allora noi chiediamo meno male meno male che c'essi tu allora non mi ingrazi l'altra volta perché se no mi ingrazo allora meno male che c'essi tu allora noi chiediamo assolutamente questo appello che dovete condividere deve arrivare alla regione Marche chiediamo cortesemente che venga fatta luce su questa donna che ha una dignità che è un essere umano qualcuno gli ha detto ma perché non va in un istituto almeno lì questa non è cos'è un istituto questa è una donna che ha una vitalità una forte la volevamo rinchiude come i carcerati no deve avere un'assistenza deve avere tutte le cose idonee per vivere con dignità la propria malattia il proprio dramma e la propria tragedia è chiedere troppo chiedere dignità vaffanculo dignità cosa che state togliendo a questa donna allora se gli volete fare un saluto se la volete metti vai piano piano verso il computer perché sei rispetto e la volete salutare volete fargli compagnia volete anche scambiare due parole con lei andate sulla sua pagina Cristiana Di Stefano la sua pagina Facebook è una donna che con dignità ha affrontato e sta affrontando tanti problemi sapete la dignità più grossa qual è? mi dai un attimo la camera a me? sapete la dignità più grossa qual è? quella di una donna che con le lacrime e gli occhi mi ha detto grazie a Dio ho degli amici che stanno facendo una colletta per me questo mese perché sono sotto in banca e non ho i soldi per fare la spesa io a queste parole di una donna così non ci sto io da italiano non ci sto io non ci sto questa cosa qua io te l'ho promesso e lo faccio se entro settembre non c'è una qualcosa che si smuove verso di lei Pio sta cazzo che tanto non va manco bene la calco sulla macchina mia in qualche modo faremo e andiamo a Roma ci mettiamo davanti a Roma finché non ci sanno cagato no tanto dopo che se ti scappa la cagace so io c'è mia moglie siamo tutti non ci muoviamo da lì vaffanculo trovate una soluzione per questo essere umano che si chiama donna va bene ciao ciao grazie per io sempre ciao ciao